Il progetto nasce da un'idea che è quella appunto di motivare, incoraggiare i ragazzi a interprendere delle azioni che possono far tirare fuori le loro potenzialità per contrastare l'abbandono scolastico e per cercare in qualche modo di costruire insieme a loro un percorso di successo che non sia solo quello scolastico ma anche quello personale. Il progetto Yes We Can va avanti al Mazzotti di Treviso per stimolare i giovani al progetto di vita. Ospiti della giornata Aldo Serena e il campione di nuoto Marco Orsi. Hanno parlato soprattutto della possibilità nella propria carriera come sportivi di perdere, di avere delle difficoltà, di avere anche degli attacchi di panico e quindi sapersi sempre riprogrammare, riprogettare, guardarsi dentro e soprattutto credere in se stessi. Un libro autobiografia che racconta le esperienze del campione, una carriera comandata dalle squadre di calcio. Prima l'Inter, poi la Juve e l'Ariete di Montebelluna avvolto dai ragazzi della scuola trevigiana. Strappa applausi, dispensa autografi e parla di come le difficoltà della vita si possono superare. A Riete non lo sono più, sono una persona che cerca di vivere serenamente, di vivere in armonia con le persone che mi circondano. Un consiglio a un ragazzo che pensa di non farcela. di provare a ritrovare se stesso, a ritrovare la passione, ritrovare la volontà di andare avanti e attraverso la passione che è fondamentale.